Salve, sono Consuelo, sono qui al centro della dottoressa Trabucco perché da tre anni a questa parte soffrivo di tachicardia notturna. Tutte le sere era un incubo perché non sapevo se avrei dormito oppure se, come mi succedeva sempre, mi svegliavo continuamente con questa tachicardia fortissima e dei picchi di pressione molto alta. Come dicevo questo problema è andato avanti per tre anni e per tre anni ho fatto visite da gastroenterologi con cure per reflusso gastrico di vari tipi però comunque non riuscivo ad avere una qualità di vita normale come avevo prima perché comunque era un incubo anche riuscire a capire cosa mangiare. Ho fatto anche nel frattempo due visite cardiologiche perché non riuscivo a capire se effettivamente la motivazione di questa tachicardia notturna. Il cardiologo comunque non riusciva a darmi spiegazioni perché era tutto a posto. Poi attraverso internet e attraverso le testimonianze come io sto facendo adesso di altri pazienti sono venuta a conoscenza di questo metodo. Dopo alcune informazioni iniziali e senza assolutamente nessuna aspettativa ho iniziato questo percorso e dopo neanche due mesi dall'inizio devo dire che la mia vita è cambiata completamente. Adesso riesco a dormire, riesco a mangiare e anche come persona riesco a essere molto più serena nei confronti della mia vita e partendo senza aspettative in questo momento mi sento di dire che veramente questo metodo per me è stato molto significativo proprio andato oltre alle mie aspettative. Volevo darvi la mia testimonianza per essere una portatrice comunque di speranza rispetto a questo metodo e per chi come me per tanti anni è stato male senza trovare una soluzione. Io consiglio vivamente questo metodo perché per me è stato un ritornare a vivere. Grazie a tutti.